Nel porto di Salerno non si sono registrati problemi o fibrillazioni questa mattina. Nel primo giorno in cui il Green Pass è diventato obbligatorio, la situazione nello scalo salernitano, a differenza di altre strutture importuali come per esempio quella di Trieste, è apparsa sotto controllo fin dalle prime ore del mattino. Da quanto si è appreso dai sindacati, nello scalo salernitano è stato tutto regolare e si è registrata soltanto qualche coda per l'accesso in alcune aziende a causa dei lettori lenti per la verifica del possesso del certificato che attesta la vaccinazione avvenuta. Secondo quanto riferito sempre dai sindacati, nel porto di Salerno tra l'altro la maggioranza dei lavoratori è già vaccinata, mentre la restante parte otterrà il Green Pass tramite tampone. In generale le uniche vere code che si stanno registrando nel comune capoluogo sono quelle delle farmacie dove è possibile effettuare il tampone e dove già dalla giornata di ieri si stanno affollando le persone per poter accertare la loro negatività. Proprio sui test effettuati in farmacia Piomba tra l'altro l'inchiesta distriscia la notizia che a Nola con Luca Abete in campagna ha smascherato nelle farmacie che rilasciano in maniera irregolare il Green Pass dopo il test salivare, cosa che non è possibile. Resta in generale una grande confusione sulla modalità di applicazione dell'obbligo che riguarda imprese pubbliche e private. La non registrazione dei dati per rispetto della privacy è il vero nudo. Intanto anche da Salerno domani molti si dirigeranno verso la capitale a Roma per poter partecipare alla manifestazione proclamata da CGL, CISL e UIL dopo le gravi aggressioni subite dalla sede della CGL a Roma.